Da Fossacesia, Sulmona, Atri, questa è la zona in cui andremo in giro per eventi enogastronomici e anche culturali legati alle bellezze, all'arte e alla cultura abruzzese. Saranno una serie di appuntamenti culinari da questa mattina, giovedì, fino a finire domenica, intervallati non solo da pranzi e cene ma anche da visite culturali, soprattutto ad Atri e Sulmona. La cerimonia principale, che sarà il culmine dell'evento, è la cerimonia di intronizzazione che si svolge quest'anno nel teatro comunale di Atri e poi seguirà con la visita alla cattedrale e poi un aperitivo al chiostro. Ci saranno anche delle finalità benefiche sociali? Nell'occasione dello sciapitre non ci sono finalità benefiche sociali, in genere la SCEN non è solo un'associazione che, dato l'oggetto sociale diciamo così, è solo gastronomica ma è dedicata anche a quella che è la valorizzazione della cultura della tavola, della cultura gastronomica per quanto riguarda poi i byage territoriali a quelle del territorio dove loro operano, ma è anche una situazione che fa della benedicenza.